Live Social Buonasera Ciao a tutti, buonasera Allora, intanto Patrizia ha anche una fantastica voce radiofonica quindi io ne approfitto per iniziare subito l'intervista ma questa sera parleremo del progetto che tu hai creato che porta il nome di Divine Connection Spieghiamo come nasce e in che cosa consiste Sì, Divine Connection è un progetto veramente molto grande, molto bello che è arrivato in un momento della mia vita in cui stavo aspettando che succedesse qualcosa e in un momento proprio in cui mi trovavo in meditazione le mie guide spirituali mi hanno proprio dato queste informazioni mi hanno detto che cosa ne dovevo fare e hanno iniziato ad arrivare una serie di informazioni che io ovviamente ho messo come la buona scettica perché comunque stranamente con tutto quello che faccio sono una grande scettica in pratica su di me e poi su un nucleo ristretto di persone e ho visto che questo metodo era veramente sensazionale era qualcosa che aspettavo da tutta la vita io ho fatto un sacco di studi, ho fatto centinaia di corsi in tutte le parti del mondo eppure tutto ciò che ho studiato, bello, interessante, meraviglioso ma non mi permetteva di aiutare le persone così come volevo ossia in modo semplice, in modo da renderle veramente indipendenti perché ovviamente è bello creare un'indipendenza nelle persone altrimenti di che cosa stiamo parlando se vogliamo veramente aiutare le persone le dobbiamo aiutare a diventare indipendenti e questo metodo proprio mi ha dato la risposta perché io vedevo che con questo metodo le persone riuscivano ad arrivare in uno stato di connessione molto profonda con se stesse in uno stato di verità, in uno stato di benessere in massimo quando io guidavo la meditazione 8 minuti ed è una cosa incredibile insomma il sogno di ognuno di noi forse ma come funziona in realtà il metodo? quindi è possibile magari dopo un certo periodo insomma che si partecipa al progetto riuscire ad arrivare in quello stato in meno di 8 minuti? sì sì sì, ci sono persone che lo praticano da un po' di tempo ma anche solo persone che magari fanno qualche corso intensivo in cui magari in una mezza giornata arrivano a praticare questo metodo e a entrare in questo stato in pochi secondi ovviamente si tratta di praticare e questo stato che cosa permette però? perché ovviamente abbiamo detto che questo stato ci permette di entrare in contatto con noi stessi profondamente con uno stato che noi chiamiamo lo stato divino dove esiste solo la verità dove c'è il silenzio mentale dove ci sono tutta una serie di cose che tanti monaci ci mettono magari vent'anni a raggiungere ok? e questo stato permette proprio alle persone di liberarsi da tutta una serie di blocchi, limiti, paure ma proprio stati d'ansia incredibili mi è capitato con una persona che è venuta a fare un corso intensivo a Malaga che è entrata in stato di panico sulla cabinovia e ho detto ok ho un attacco di panico ho detto benissimo benissimo ho detto adesso hai l'opportunità di mettere in pratica il metodo che hai imparato questa mattina da sola io sappi che tra 5 minuti mi metterò a saltare in cabina ho detto davvero lo fai Patrizia mi conosci quindi sai benissimo che io lo farò e lei mi ha detto ok mi metto lì e lavoro ha lavorato dopo 3-4 minuti ha detto Patrizia perché mi sono poi messa a saltare in cabina ovviamente quindi l'hai fatto si l'ho fatto mantengo le promesse e lei ha detto Patrizia guarda sono molto tranquilla ho ancora qualcosa ma sono molto tranquilla quindi ha funzionato insomma assolutamente si lei ha il live successivo il live è un corso che noi facciamo circa una volta all'anno dove incontriamo tutte le persone che seguono la Divine Connection ha detto che si vuole buttare col paracadute meraviglioso ragazzi quindi sono davvero anche perché poi quando uno si libera del blocco della paura in realtà scopre che dietro c'è un grande desiderio magari di fare esperienza proprio di per esempio in questo caso dell'altezza del volo però magari di esperienze che ci spaventano ma che segretamente ci attirano assolutamente assolutamente anche perché ogni ombra che noi abbiamo e tutti noi abbiamo tante ombre si nasconde una grande risorsa che non conosciamo ancora esatto quindi intanto io vi invito a visitare il loro sito divineconnection.one il loro sito esiste anche un gruppo facebook importantissimo che si chiama Divine Connection ma quello che è importante dire è che questo metodo questa tecnica poi rimane come strumento nel tempo assolutamente sì perché infatti ci sono tante persone che hanno proprio cambiato la loro vita e non esagero perché se entrate nel gruppo le vedete le potete incontrare anche perché il gruppo è un gruppo molto attivo che ha permesso a tantissime persone di proprio confrontarsi di fare domande sul metodo che poi trovate anche nel libro esatto perché poi tu hai scritto anche un libro tra l'altro meraviglioso nel senso che all'interno del libro trovate anche contenuti audio trovate davvero un metodo ma come posso dire è esposto anche graficamente in maniera molto chiara sì allora il metodo all'interno del libro c'è completamente questo libro è stato atteso tantissimo le persone quando è uscito l'hanno scaricato a mezzanotte è diventato best seller nel giro di poche ore su Amazon e all'interno c'è proprio il metodo chiaramente spiegato ovviamente poi chi vuole approfondire all'interno del gruppo ci sono tutta una serie di possibilità di chiedere proprio aiuto alle persone chiedere chiarimenti nel libro inoltre c'è la possibilità di accedere a un'area riservata gratuita dove avete l'audiolibro per i pigri esatto ecco ci sono tutta una serie di meditazioni anche registrati a livello audio ci sono una serie di video di approfondimento e anche delle schede di approfondimento quindi c'è veramente un mare di roba quindi già con il libro una persona potrebbe veramente fare il salto di qualità esatto e poi comunque ricordo che il libro è qualcosa che vi rimane quindi anche una referenza quando ne avete bisogno quando avete bisogno di un chiarimento e soprattutto è un primo passo verso una volontà di cambiamento sì quindi insomma è un ottimo segno il libro dove lo troviamo Patrizia? il libro lo trovate su Amazon su Amazon lo trovate e poi ci sono alcune librerie le trovate all'interno del sito però insomma se andate su Amazon lo trovate tranquillamente e vedete anche che ci sono un sacco di recensioni bellissime perché ci sono delle persone veramente che già solo leggendo il libro hanno veramente cambiato la loro vita ma immagino infatti c'è una storia meravigliosa dietro a questo progetto ma anche ad altri tuoi progetti io so però quello che è importante dire è che anche il gruppo Facebook è una realtà importantissima anche perché i social servono proprio a questo secondo me anche a condividere un po' esperienze, storie e devo dire che sul tuo gruppo Facebook insomma di storie incredibili ce ne sono parecchie sì ce ne sono tantissime intanto ci sono un sacco di persone che non avevano il profilo Facebook e l'hanno creato solo per entrare nel gruppo quindi già questa è una cosa bellissima ci sono tante persone che hanno trovato le amicizie della vita all'interno del gruppo è un grandissimo supporto ci sono anche persone che hanno avuto malattie importanti o problemi importanti che all'interno del gruppo hanno trovato la possibilità proprio di incontrare delle persone che gli davano supporto oltre che un metodo che è semplicissimo che potete applicare autonomamente e che veramente vi può cambiare la vita ovviamente solo se lo applicate perché se tenete il libro sul comodino non basta ebbè è ovvio anche se è una buona vibrazione non basta dovete leggerlo, impararlo, utilizzarlo e fare un'esperienza soprattutto anche perché è così che si impara ecco intanto io ricordo la mail a cui potete contattare Patrizia infochiocciola divineconnection.one il sito è proprio divineconnection.one mentre il profilo facebook assolutamente da seguire è divine connection io so che tu organizzi diversi eventi legati proprio a divine connection e anche al gruppo facebook perché ormai è una vera e propria community ma le date vengono sempre aggiornate giusto? sì ci sono chi partecipa al gruppo viene assolutamente avvisato di quello che andiamo a fare perché comunque anzi molto spesso mi dicono ma il prossimo live quando lo facciamo infatti vorrebbero che noi ne facessimo un ogni tre mesi ma il nostro team che abbiamo un team ovviamente che fa tantissimo del lavoro perché tutto da sola non ce la farei io faccio diciamo il frontman esatto ti mandano in avanti poi c'è tutto il team che organizza che segue le persone eccetera eccetera ma il nostro team al momento non ci permette ancora di fare 20 eventi di questo livello ecco però intanto quello che va detto è che se si iscrivono al sito possono insomma essere aggiunti alla mailing list giusto? sì assolutamente infatti all'indirizzo all'indirizzo del sito divineconnection.one voi vi lasciate la mail intanto si tratta proprio di ricevere anche dei contenuti perché noi all'interno del gruppo noi mettiamo tantissimi contenuti c'è la diretta tutti i lunedì che non te l'avevo detto tutti i lunedì noi facciamo una diretta che può durare dai 45 minuti alle 2 ore dove facciamo un lavoro intenso proprio per rilasciare tutta una serie di problemi andiamo a discutere su tutta una serie di tematiche che sono importanti per le persone per stare meglio per il loro benessere per il loro miglioramento e poi ci sono tutta una serie di video dirette informazioni insomma c'è veramente di tutto quindi insomma ne vale davvero la pena ragazzi io credo che possa essere davvero un primo passo verso una qualità di vita migliore soprattutto verso una consapevolezza insomma più reale di quello che siete e soprattutto del grande potenziale che ognuno di noi ha sì anche perché comunque guarda noi siamo molto diretti io sono molto diretta quando le persone mi chiedono le cose e visto che abbiamo c'è sicuramente tanta esperienza e ho delle guide che mi danno tante informazioni che aiutano con cui posso aiutare le persone andiamo direttamente al punto e le persone se seguono queste indicazioni veramente fanno uno shift ci sono veramente delle persone che hanno dato una svolta completa ci sono dei mariti che le mogli magari sono venute ai nostri corsi che hanno cambiato la loro esistenza ci adorano proprio perché li abbiamo aiutati a migliorare anche la loro vita la loro vita coppia la qualità della loro quotidianità questo è importantissimo io intanto Patrizia ti ringrazio per essere stata con noi averci portato tutta la tua energia positiva ai microfoni di live social e se vuoi salutare qualcuno questo è il momento per farlo beh sicuramente saluto tutti voi che siete presenti io vi posso solo dare un augurio un augurio è quello di ricordarvi che voi siete importanti le persone più importanti della vostra vita e curando voi stessi prendendovi cura di voi stessi voi potete veramente cambiare le cose questo è possibile grazie mille e buona serata live social grazie mille grazie mille Grazie a tutti.